buonasera quest'oggi siamo al centro di ricerche scientifiche interamente finanziato dallo ior abbiamo con noi il dottor jans hans che ci parlerà di un caso interessante buonasera dottore buonasera oggi prenderemo in esame il caso della signora later witty guarita da un tumore in fase terminale la signora witty era solita recarsi dopo i trattamenti di radioterapia in una piccola cappelletta a pregare dio e miracolosamente è guarita abbiamo fatto tutti gli esami del caso e possiamo confermare scientificamente la regressione del male abbiamo quindi la prova scientifica dell'intervento divino scusi ma non è che forse è stata la radioterapia cioè scusi noi qui stiamo parlando di scienza per favore non di superstizione cioè ma come possano dei raggi invisibili arrivare addirittura a influire sulla materia su dai forza vabbè ma anche dio è invisibile